I carabinieri di Matera con il supporto dei carabinieri di Massafra e Castellaneta e l'ausilio di due unità cinofile antidroga del nucleo di Tito e di un equipaggio del sesto nucleo elicotteri carabinieri hanno dato esecuzione nei territori di Castellaneta, Palagiano e Massafra ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone. Il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al furto di cavi in rame e alla loro ricettazione. L'attività investigativa nasce in seguito alla commissione di numerosi furti di cavi di rame patiti a partire dal novembre 2017 dalla società materana Italcementi per poi svilupparsi fino ad accertare gli autori di furti commessi in danno anche e soprattutto delle tratte ferroviarie di proprietà delle ferrovie sud-est presenti sul territorio pugliese. Le fasi successive delle attività di indagine hanno consentito di cristallizzare le responsabilità penali dei singoli appartenenti all'organizzazione criminale, dedita al furto dei cavi di rame e alla loro successiva ricettazione e di individuare il loro modus operandi. Infatti nel caso dei furti avvenuti in danno di capannoni di aziende i responsabili tranciavano i cavi elettrici sotterranei e li privavano della guaina in gomma e poi si recavano sul posto con l'intento di compiere ricettazione. Nei casi in cui i furti sono invece avvenuti in danno delle linee ferrovie sud-est i criminali provvedevano prima a tranciare i cavi aerei per poi avvolgerli tramite uno strumento elettrico e caricarli su mezzo quad. Al sodalizio criminoso ha preso parte anche il titolare di un'azienda operante nel settore della raccolta di materiale ferroso di Massafra raggiunto da misura cautelare in carcere. L'esecuzione ha portato alla luce le modalità e gli autori di 16 furti commessi nell'arco temporale che va dal novembre 2017 al dicembre 2018 in cui sono stati trafugati circa 12.000 metri cavi di rame del peso equivalente a circa 18.000 chili e del valore di mercato di circa 100.000 euro con danni per oltre il milione di euro. I carabinieri della compagnia di Matera non hanno reso note le generalità degli arrestati. I carabinieri della compagnia di Roma